Sottile Juventini e sorelle Juventine benvenuti alle pagelle di Juventus Roma una partita che sinceramente mi ha lasciato la mano in bocca per il gioco ma contento per il risultato questa sera sinceramente senza il nostro alieno ai quali faccio ancora gli auguri di compleanno che ha fatto ieri penso che stasera la partita sarebbe finita con uno squallido 0-0. Shelsmi 6 qualche intervento così diciamo di routine niente di più Sandro 7 Sandro questa sera è il Sandro che mi aveva fatto godere quando arrivò il primo anno a Torino e che mi aveva fatto pensare abbiamo preso un grande terzino sinistro veramente sono rimasto piacevolmente colpito questa sera Sandro signori aveva voglia di giocare perché Sandro io l'ho detto più volte non ha problemi di qualità Sandro ha problemi di testa di voglia questa sera Sandro aveva voglia forse ha capito forse ha capito che Pirlo a sinistra gli sta preferendo Danilo e non tutte le volte fa riposare quadrado e quindi si è impegnato signori applauso da parte mia a Sandro 7 Chiellini 7 come sempre suntuoso non fa arrivare un pallone in area di testa sono tutte sue anticipa tutti i difensori dà sicurezza tutto reparto difensivo grande Giorgione che Dio ti preservi in salute perché se continui così stai facendo una stagione da quando sei rientrato stratosferica Bonucci 6 a Bonucci a Bonucci ma basta ma basta fare dei lanci non ne azzecchi uno che uno ma basta Bonucci ma basta è vero che sei utile per uscire palla al piede ma questa sera non siete mai usciti avete giocato al gambero quindi 6 Danilo 6 ecco stasera Danilo rispostato a destra è la dimostrazione che lui si trova meglio a sinistra paradosso del calcio perché lui in teoria dovrebbe essere un terzino destro ma evidentemente si è ambientato nell'altra fascia e a destra è un po più pasticcione comunque partita diciamo mediocre di tutta la squadra per non dire pessima e anche lui è andato a finire nell'alvio di questa mediocrità 6 Robbio 5 mamma mia giocatore veramente che non ha né capo né coda rallenta il gioco in maniera incredibile non sa mai a chi dare il pallone confusionario pessimo McKennie 5 eh sì Texas Boy sai che io ultimamente stravedo per te ma questa sera proprio non ero in partita non hai tolto il pallone una volta ai giocatori della Roma non hai proposto non hai fatto cioè niente di fatti Pirlo giustamente ti ha tolto Arthur altro giocatore per cui io stravedo 5 non ne ha azzecata una è vero palla incollata al piede ma ne hai perse tantissime non hai fatto una verticalizzazione continuavi a dare la palla o a Sandro o a Chiellini o a Bonucci o a Danilo poi quando è veramente 5 chiesa 6 partita senza senza arte ne parte senza gloria e senza infamia partita normale ti sei impegnato io ti do 6 perché hai messo l'impegno ma alla fine non sei servito un tubo neanche tu Morata 5 ve l'ho detto che Morata è in involuzione Morata non è in forma speriamo che sia la quietia prima della tempesta ovvero che vada in forma per la Champions League dove lui è sempre devastante perché sono 4 partite 4 che Morata è inguardabile è vero ha partecipato all'azione del primo gol ma voglio dire cioè ha fatto semplicemente un passaggio al giocatore che aveva un metro cioè Ronaldo non è che ha fatto chissà che cosa quindi 5 quadrato 6 e scusate quadrato 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 Morata Morata è Morata CR7 CR7 scusate sono sono talmente incavolato perché non mi ha vissuto la Juve che faccio casino CR7 7 vabbè ha inventato lui la partita ha fatto un gol meraviglioso ha fatto un altro tiro splendido che poi ha fatto il teatrino con l'arbitro che voleva vedere se c'era la goal line tecnologica che aveva suonato suona bellissimo tiro ha preso la traversa sfortuna un altro tiro bellissimo al volo e per essere anticipato su quello che poteva essere il suo gol il difensore l'ha buttato dentro praticamente ha vinto la partita da solo 7 quadrato 6 gli do 6 per quell'assist che ha messo in mezzo che poi ha fruttato il secondo gol della Juventus cioè dell'autogol altrimenti anche lui non è che abbia fatto chissà che cosa Kulusevski 5 non c'è niente da fare Kulusevski sta continuando a sbagliare tutte le palle che tocca o fa il passaggio troppo indietro o fa il passaggio troppo avanti o lo fa troppo corto o lo fa troppo lungo o in cespica nel pallone Kulusevski sei stato pagato 45 milioni se tu fossi stato preso a parametro zero o in prestito magari sarai anche più generoso con te ma tu 45 milioni fino adesso non li vali fino adesso Bernadeschi sv sv demirà sv perché di fatto non sono non sono entrati in partita ma non per colpa loro ci mancherebbe altro pirlo pirlo ti do 7 perché penso che tu la partita l'abbia preparata in un altro modo di fatti sentivo i commenti da Borgocampo dei giornalisti che dicevano che non eri soddisfatto ecco questo mi è bastato per capire che tu non eri soddisfatto e che non volevi questa partita sicuramente la squadra sta tirando i rimi in barca sicuramente la squadra sta gestendo i tempi sta gestendo i modi sta gestendo le fatiche ok energie mentali però pirlo ricordati che adesso che stai incominciando a fare un filotto di vittorie e stai recuperando posizioni devi dare una strigliata ai due ragazzi perché se poi anche martedì andate in campo così con l'inter tanto e se tanto siamo già in finale rischiamo che l'inter ci ribalti e poi domenica sabato andiamo a napoli che è una partita difficilissima quindi pirlo fatti sentire in settimana per adesso beccati il 7 perché secondo me te lo sei meritato visto che alla fine stai continuando a vincere e quindi niente da dire fino alla fine forza juve forever and ever uber alles e te hanno le cr7 e vai col terzo posto ciao 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 Grazie a tutti.